Ed eccoci qua di nuovo cari amici, siamo vicino alla turbina, abbiamo fatto un po' di spedalamento ma ne è valsa la pena eh, guardate guardate che spettacolo, guardate come avanza lentamente a causa della neve, è un vero spettacolo eh, siamo agli sgoccioli, a breve lasceremo la pista per il fuori pista, guardate guardate quanta neve c'è, questi saranno 5 metri, la cabina è alta circa 4 metri, guardate che spettacolo. Grazie.